E' bello a tutti ragazzi qui parla Pasqualditioff e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi ritorniamo su Brawl Stars Ma purtroppo mi si è cancellato E quindi adesso dobbiamo rincominciare da capo Allora riprendiamo nel gel Questo qua lo sappiamo fare Bel lavoro Ok Adesso è la parte dove devo mirare Non so perché ragazzi ma mi funziona male il gioco Cioè Allora praticamente Vedete che è tutto più piccolo Non so perché Prima quando volevo mettere la registrazione Mi si vedeva male quindi non ve l'ho fatto vedere Cioè mi prendeva sotto una parte dello schermo Ok 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 Allora Mi sono piaciuto sparare così Ok Uccisi Grande Quando colpisce il viso L'indicatore della super si ricarica Ok Allora Qui come vedete Abbiamo l'attacco speciale Quindi adesso 3 2 1 Ok ragazzi Boom Ah ok Ok ragazzi Abbiamo fatto l'attacco speciale Impari in fretta Ok Ragazzi Casomai il gioco mi si dovesse cancellare Vedete vedete Guardate Non funzioni Ok Mettiamo De Pasquale Dieci De Pasquale dieci E poi era Oh Sì De Pasquale dieci Ok Ci siamo Via Ok Ragazzi Facciamo una partita Allora Questa ovviamente È la prima partita Contro i boss Allora Ragazzi Ci siamo Andiamo in battaglia Allora Questa è la prima partita Contro i boss Io non lo voglio essere Allora Non c'è che uno Che greve Che greve Un altro Un altro Dai 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 Un altro ragazzi Ne ho uccisi i tre Ok Aggiunare Male Ok Allora Siamo quasi No, 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 vai Ci fa, ci siamo Ok, partita conclusa Ragazzi, abbiamo vinto Ok, ragazzi Allora, adesso vediamo di farci Un'altra partita Ok, ragazzi E questo è il mio Allora Ragazzi, facciamo un'altra partita E poi finisce Finirà l'episodio Ragazzi, ovviamente io mi allenererò Così magari al prossimo Bisogna vederti delle verità Allora, bravo Allora, ragazzi Vediamo un po' Di fare meglio Perché adesso siamo Online E la condizione Dovrebbe andare proprio A questa cosa Beh, questo la condizione Non mi può Buona Perché io non ho Già le Questa è la stessa Non lo so Allora Allora Ehm Venimo qua Ok Ma sono morto Sì, sono morto Ma come ne sono Ne so Non mi ricordo Talmente che Talmente che Allora Andiamo Andiamo avanti Ma guarda Mi faccio schifo A questo gioco Ok Stiamo straperdendo ragazzi Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so No, no, no Non lo so No, no, no No, no No, no Let's go attaccandomi no abbiamo straperso ragazzi vabbè ragazzi allora ci siamo abbiamo un'esperienza siamo? ok allora bene ragazzi spero finalmente che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando se vi è piaciuto mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su The Pascal DG Off alla prossima ragazzi